Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui. Siamo ancora in attesa del Presidente Violante e del Presidente Casini, ma sono entrambi in arrivo. Proviamo ad accelerare però gli inizi comunque di questa conferenza-presentazione perché il Ministro Calderoli, che ringraziamo molto di essere qui con noi, poi ha impegni istituzionali in Commissione e quindi non potrà trattenersi a lungo. Anzitutto rubo un minuto, il Ministro me lo consentirà, per spiegarvi il perché di questa iniziativa. Il perché è questo, cioè una pubblicazione dell'On. Pierluigi Mantini, che tutti conoscete non solo come deputato ma anche come professore universitario e come responsabile dell'Udc sulle tematiche che attengono alla riforma dello Stato. Pierluigi Mantini ha chiesto a noi e a Formiche se potevamo essere interessati a pubblicare un suo lavoro in cui vengono disegnate, non sono evidentemente proposte a titolo personale, una serie di iniziative volte a poi realizzare un sistema istituzionale che sia coerente. Perché noi abbiamo avuto una prima Repubblica in cui vi era una coerenza fra forma di Stato, forma di governo e legge elettorale. Nella seconda Repubblica questa coerenza è un po' venuta meno perché c'è stata per esempio una riforma costituzionale importante nel 2001 che ha introdotto un'accentuazione del processo federalista che ora si sta completando anche per via ordinaria e c'è stato un cambio, anzi due cambi di legge elettorale. Il primo dopo un referendum e il sistema che è emerso è apparso contraddittorio. E quindi se non interpreto male lo spirito dell'iniziativa dell'onorevole Mantini l'idea è quello invece di provare a ragionare per disegnare delle istituzioni che abbiano una loro coerenza intrinseca. E quindi in questo libricino sono disegnate proposte vere e concrete di riforma che vanno degli aspetti più direttamente costituzionali, compreso per esempio il Senato federale fino al tema della legge elettorale. e vengo quindi al Ministro Calderoli che è di attualità sempre nel dibattito politico ma credo lo sia particolarmente in queste ore saluto il Presidente Violante. Dicevo Presidente abbiamo un po' iniziato in anticipo, molto in orario perché poi il Ministro Calderoli dovrà lasciarci. Ero arrivato al tema legge elettorale, il tema poi su quale volevo cedere subito la parola al Ministro per le riforme perché oggi il Ministro Umberto Bossi, il leader della Lega, ha fatto quello che giornalisticamente è stato ritenuto un'apertura di credito importante perché ha espresso la possibilità di lavorare maggioranza e posizione insieme sulla riforma della legge elettorale. Ora evito di spiegare soprattutto in questa sede il perché e il per come oggi il tema della legge elettorale risulta di particolare interesse sui temi contenuti nel libro e in particolare sul dibattito riacceso oggi da Bossi sulla legge elettorale cedo volentieri la parola ringraziandolo ancora al Ministro Roberto Calderoli. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Ringrazio io l'amico Mantini per l'invito e per quel lavoro che ha fatto rispetto alle riforme. È una materia che mi è sicuramente cara, mi sta a cuore. Tante cose belle o brutte citate dal nostro presentatore le ho scritte io, quindi qualche colpo, qualche invito ritengo di averlo a riguardo. Quello che però mi interessa oggi sottolineare ed è il motivo per cui ho aderito a questa illustrazione, a questa presentazione, è il metodo che è necessario seguire rispetto al cammino delle riforme. Un metodo che dovrebbe essere largamente o il più largamente condiviso però solitamente questa richiesta di condivisione viene fatta quando si è all'opposizione e ce la si dimentica invece quando si è in maggioranza. Quindi l'impegno da parte di tutti sia quando si è in maggioranza che in opposizione di affrontarlo con la medesima metodologia. Lo dico rispetto a una dichiarazione di colpevolezza che io faccio rispetto ad aver fatto delle riforme in maniera non condivisa. Due legislature fa io ho portato avanti e scritto una riforma che modificava 53 articoli della Costituzione, lo si fece con i soli voti di maggioranza e il risultato è che un referendum abrogativo cancellò completamente quel lavoro anche se molti degli argomenti di cui si discute oggi, la riduzione all'umore parlamentare, il Senato federale, la forma di governo, erano tutti temi toccati. Probabilmente se in quell'occasione avessi sentito di più, ascoltato di più alla Camera l'amico Luciano Violante, piuttosto ricordo l'impegno al Senato di Franco Bassanini, del professor Passili e altri, avremmo raggiunto un maggiore equilibrio perché quello che era carente in quella Costituzione era la mancanza di pesi e contrapesi idonei rispetto a quello che era l'equilibrio complessivo della Costituzione e anche un meccanismo legislativo che era oltremodo ferraginoso e quindi avrebbe potuto e dovuto essere corretto. Non sono il solo colpevole però perché chi prima di me intervenne sul titolo quinto credo commise il medesimo errore, lo voglio ricordare proprio perché gli errori dovrebbero servire a non ripetere poi quello che si è fatto di sbagliato in passato. Io credo che anche la modifica del 2001 uscì squilibrata, lo dico perché credo che andare a incidere su un solo titolo della Costituzione senza prendere in considerazione la parte che riguarda il Parlamento e il Governo abbia squilibrato complessivamente il quadro e il fatto di aver fatto un intervento dimenticandosi per esempio introducendo la materia concorrente attraverso un progetto di devoluzione di quelle che sono le funzioni poteri a livello periferico l'aver non previsto una Camera come il Senato federale o Camera delle Regioni, quello che volete chiamarlo, che rappresenti un punto di compensazione, di incontro di tutte quelle che sono le realtà territoriali per me ha aperto la strada anche a una potenziale disgregazione, quindi quando uno chiede il Senato federale non vuole mettere in discussione l'unità d'Italia, l'unità d'Italia la si realizza proprio con la creazione di un luogo dove riuscire a far ritrovare tutti i vari livelli di governo. In più credo che in quella riforma, tema che credo tutti devono considerare anche nella proposta della cosiddetta lato B della proposta violante, il discorso del 117 perché così come è stata individuata la materia concorrente, ricordo i tre crasi più calamorosi, grandi reti di trasporto e navigazione, la produzione, la distribuzione dell'energia o l'ordinamento delle telecomunicazioni, è evidente che con la materia concorrente dovrebbero poco riguardare. E in più due aspetti che erano rimasti monchi rispetto al quadro complessivo, l'articolo 119 e l'articolo 117 della Costituzione. Ovvero noi abbiamo avuto per dieci anni una Costituzione che diceva che comuni in provincia e regioni hanno una propria autonomia di entrate e di spesa e di fatto vivevamo in una situazione di assoluta centralizzazione rispetto agli aspetti economici della finanza locale. E a livello dell'articolo 117 per dieci anni si è proceduto senza che nessuno avesse individuato il chi fa che cosa, cioè quello che dovevano fare comuni, province e regioni. E questo è il quadro che abbiamo trovato all'inizio della legislatura. E io ricordo un incontro che ho avuto proprio al gruppo dell'Udc all'inizio della legislatura quando andai a illustrare la mia proposta di riforma costituzionale di federalismo fiscale e di codice delle autonomie. Un certo pezzo del cammino lo si è fatto, siamo partiti dalla parte del federalismo fiscale perché è evidente in assenza di un controllo su entrate e spese o di una sovrapposizione di livelli di spesa anche a fronte delle difficoltà economiche del paese era impensabile poter proseguire su questa strada. Credo che il lavoro che è stato fatto abbia portato a una legge delega che ha avuto una condivisione abbastanza allargata perché i voti contrari poi alla fine sono stati veramente pochi. Abbiamo fatto sette decreti legislativi e alcuni di questi hanno avuto un voto, l'ultimo in particolare è stato votato l'unanimità. Ve ne sono stati alcuni su cui c'è stato anche uno scontro credo che anche motivazioni di carattere più di politica generale abbiano influenzato quelle fasi perché ogni volta che c'era in corso veniva progettata una spallata al povero federalismo fiscale e risentiva di questo clima. In particolare quello dei comuni, comunque abbiamo già assunto rispetto ai comuni l'impegno che quella previsione di una revisione dei tagli che è stata fissata nel 2012 per le regioni alla stessa maniera lo garantiremo anche per i comuni così come c'è l'impegno da parte nostra in sede di manovra finanziaria che verrà presentata a brevissimo di inserire una riforma del patto di stabilità perché l'attuale patto al posto che premiare i virtuosi hanno determinato il contrario e quindi l'impegno a correggerlo. Il codice dell'autonomia è proprio settimana scorsa abbiamo presentato con il Presidente dell'Associazione degli Amici dei Comuni il Senatore Bianco un testo di codice dell'autonomia che è stato scritto dal relatore di maggioranza di opposizione dal Presidente della Commissione e dal Governo e quindi in questo senso credo che si possa veramente trovare una soluzione a quello che dal 2001 è in attesa di una soluzione oggi ci sono solo le funzioni transitorie nella legge del federalismo fiscale e basta chiuso il cerchio del 117 e del 119 è evidente che poi arrivi al gatto che si moda la coda del fatto di non aver fatto ancora la riforma costituzionale io come avevo anticipato avevo presentato all'inizio della legislatura quel testo perché ritenevo che fosse uno dei temi principali di questa legislatura ne sono ancora assolutamente convinto vedo dai più presentare proposte che vanno nello stesso senso non credo che sia più nessuno contrario alla riduzione del numero dei parlamentari credo che si debba parlare di un rafforzamento dei poteri dell'esecutivo ma accanto a un rafforzamento dei poteri di controllo del Parlamento perché è indubbio che oggi il governo per poter governare chiunque vi sia alla guida del Paese deve utilizzare lo strumento della decretazione d'urgenza deve ricorrere a dei voti di fiducia continui e che mettono in discussione la possibilità che i singoli parlamentari i gruppi parlamentari portino avanti delle proprie proposte di legge questo è un non senso all'interno di un Parlamento rispetto a tutte queste tematiche io credo che ci siano non solo i tempi ma anche la volontà politica per portarle avanti abbiamo l'esperienza maturata nella scorsa legislatura e credo che la maggior parte dei temi proposti possano essere portati avanti trovo rispetto a quella proposta di allora un limite legato al fatto che è un tema che è stato esaminato solo da un ramo del Parlamento e credo che al di là di tutto le difficoltà maggiori non le troveremo dovendo affrontare il problema di cosa farà il Senato federale di quali saranno le sue funzioni quali materie tratteranno perché è evidente che i senatori sono scarsamente disponibili a venire considerati una Camera di serie B io sono alla terza legislatura di Senato quindi ho maturato anche una certa sensibilità sotto l'aspetto di quello che potrebbe essere l'assenso o il dissenso dei senatori credo che la proposta che noi dovremmo portare loro non sia una Camera alta quella dello Stato e una Camera bassa quella della Camera dei deputati e una Camera bassa quella del Senato di serie B io credo che dovremmo individuare una sorta di specializzazione delle due Camere per cui uno fa una cosa e uno ne fa l'altra ovviamente ricordando la difficoltà di una Camera che comunque non esprime una fiducia al Governo e quindi di individuare sapientemente quelle che sono le materie che dovrà trattare il Senato senza mettere in difficoltà l'equilibrio dell'esecutivo o i conti pubblici a conclusione di tutto questo allora sono d'accordo che la legge elettorale diventi non una esigenza diventa un obbligo assoluto perché nel momento in cui andiamo a modificare per numeri la Camera dei deputati e completamente la natura del Senato la legge elettorale sarà una cosa obbligatoria in questi giorni ho visto iniziative referendari e ho visto proposte di legge che vengono presentate io credo che una maggior riflessione rispetto alla legge elettorale debba essere fatta perché io nella passata legislatura ho cercato stando all'opposizione l'ampia condivisione non l'ho trovata però ho visto anche che non è possibile pensare a fare una legge elettorale se lo stesso gruppo politico presenta 4 o 5 proposte di legge differenti ormai credo che abbiamo davanti dal Provincellum ai vari tedeschi più o meno modificati alla modifica del Porcellum insomma si vede girare un po' di tutto però io temo che nessuna di queste proposte poi in sintesi possa arrivare ma neanche lontanamente vicino al 50% quindi su questa materia credo che il dialogo tra tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione sia una cosa assolutamente necessaria i tanti sistemi elettorali che abbiamo visto passare che abbiamo provato sulla nostra pelle ci hanno mostrato vizi e virtù forse siamo anche pronti per dare una risposta complessiva più equilibrata rispetto a quella attuale però ricordandosi sempre che quando porti una riforma devi avere poi numeri per farla passare perché sotto sotto io che sono stato accusato di aver scritto la mamma di tutti i mali del mondo io credo che sotto sotto non vi sia segretario di partito di qualunque colore politico che non abbia gradito la lista bloccata che mi è sempre stata sollecitata è che non ci sono i segretari di partito perché si tengono si tengono ben nascosti però io credo che il Parlamento fuori dei denti un Parlamento che è stato eletto con le liste bloccate abbia una certa diffidenza nei confronti di qualsiasi altro sistema possa mettere in dubbio il proprio futuro e quindi o si parte con un consenso che raggiunga il 75-80% del Parlamento oppure il Porcellum avrà 10 o 15 vite grazie grazie Ministro io scusi posso aggiungere una cosa nell'ultima riforma proprio come consiglio all'amico Mantini una riforma bisogna mettere che probabilmente dovrebbe essere una costituzionalizzazione dei regolamenti parlamentari non esiste al mondo e credo che questo sia una cosa che dobbiamo a tutti i cittadini avere un Parlamento che lavora un giorno e mezzo due alla settimana questo proprio non ci sta non è solo quello perché il problema io purtroppo le commissioni e l'aula la frequento spesso rispetto ai miei provvedimenti io credo che c'è un invalso ormai un'abitudine per cui al di fuori del martedì pomeriggio e fino al giovedì a mezzogiorno dopodiché liberi tutti è un'assurdità e credo che se si utilizzassero le commissioni veramente come lavoro preparatorio non nei giorni dell'aula si potrebbe lavorare con più tranquillità più produttività e dimostrando al paese che si lavora come ogni cristiano cinque giorni alla settimana Ministro ancora una domanda al volo anche a beneficio dei giornalisti presenti proprio la sua esperienza sul finire la legislatura del 2001 2006 dimostra come anche in poco tempo si possa riuscire a realizzare una legge elettorale che poi ha trovato consensi comunque diciamo così larghi in maniera generale lei ritiene che la Lega possa inserire nella sua agenda anche nel rapporto con il Presidente del Consiglio il tema della riforma della legge elettorale? Adesso non è che voglia citare Pontida che è troppo fresca però quello che io intesto ma rispetto all'esperienza del passato la riforma dei 53 articoli della Costituzione è stata fatta in 14 mesi il tempo che io ho sottoposto al Presidente del Consiglio sono 15 mesi quindi con qualche giorno in più e è molto minore rispetto a quella precedente abbiamo davanti 18 mesi io credo che due mesi o tre siano un termine temporale corretto per affrontare una legge elettorale la legge elettorale solitamente precede immediatamente il voto perché in qualunque momento della legislatura tu la faccia ci sarebbe un Parlamento non legittimato in presenza di una nuova legge elettorale e quindi temporalmente andrebbe proprio ad essere affrontato subito prima delle elezioni del 2013 abbiamo davanti 18 mesi di governo e di legislatura o li si fa rendere oppure non ne va proprio la pena la ringrazio per il suo ottimismo e la ringrazio anche per la sua presenza buon lavoro grazie 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 ancora allora io saluto e ringrazio ancora il presidente Violante e il presidente Casini che ci hanno raggiunto come dicevo all'inizio abbiamo un po' anticipato i lavori dando subito la parola al ministro Calderoli perché aveva questi impegni istituzionali in commissione quindi prima di prendere il filo del nostro dialogo con gli autorevoli ospiti cederei la parola a Pierluigi Mantini che è l'autore del lavoro che presentiamo oggi perché appunto possa fare seppur sinteticamente una introduzione e una spiegazione di quello contenuto in questo volume grazie grazie a Paolo Messa in realtà io ringrazio il ministro anche se adesso ha dovuto lasciarci lo ringrazio comunque per la sua presenza e anche perché ci ha un po' mi ha sollevato dal compito diciamo ricostruttivo perché il suo intervento è stato appunto ricognitivo sui lavori di questo decennio e il punto è proprio questo questo volumetto insomma presente in realtà le proposte che nascono nell'ambito dell'Unione di Centro ma con molti contatti e rapporti approfondimenti universitari fondazioni il senso è quello che poi rivolgerei nell'immediato al ministro Calderoli ma insomma lui ci ha dato già una risposta parziale agli altri autorevoli interlocutori che mi fanno il piacere di essere qui e di discutere insomma il punto è però per tutto il paese c'è la possibilità di un cambio di agenda delle riforme per recuperare questi decenni di riforme grandi devolution alla bozza violante cui largamente ci ispiriamo per una parte almeno di queste proposte pur con qualche correzione cioè tutto questo lavoro per l'ammodernamento delle istituzioni la nostra tesi rinvio naturalmente per gli approfondimenti per essere breve è semplice molto chiara ma anche con una sua forza mi permetto di dire noi se vogliamo tagliare il traguardo di Europa 2020 vincendo le sfide difficili che l'Italia ha dinanzi e che solo per citarne uno insomma nella sua ultima relazione il governatore Draghi ci ha ricordato con una certa precisione dobbiamo avere istituzioni più efficienti meno costose e soprattutto dobbiamo avere una legge elettorale che consente di avere un governo autorevole ma non perché basato su un voto in più destra contro sinistra ma perché basato su larghe alleanze intese tra forze nazionali che consentono appunto lo sforzo e l'impegno che abbiamo dinanzi quindi non è il libretto diciamo semplicemente una raccolta dei materiali più maturi ha un solo pregio che non va sottoscritto appunto è quello di essere diciamo ricognitivo di proposte di legge già presentate in Parlamento quindi è un tema diciamo non è un'analisi di scenari un'elencazione ma una rassegna di proposte ora queste proposte sono sul primo tema quello della forma dello Stato e anche del rapporto tra governo e Parlamento nella direzione indicata per farla breve diciamo che il rispetto a quello fu chiamato la bozza violante io ricorderò che ci fu un voto che ebbe nella quindicesima legislatura fu un voto favorevole positivo con alcune larghe estensioni quindi un voto nella sola commissione prima quindi un testo largamente condiviso lì per indicare solo due cose insomma ci permettiamo come dire di avere una visione un pochino più rigida rigorosa del tema dell'interesse nazionale il ministro Calderoli ci ha detto un sì alla necessità che queste riforme vengano riprese quindi implicitamente io devo dedurre che non c'è più forse l'ossessione della grande epocale riforma solo sulla giustizia ma ci sono anche questi temi che hanno un'urgenza è che il paese non può abbandonarsi dietro le spalle facendo finta di aver scherzato per oltre dieci anni ecco noi riteniamo che per esempio il senato non deve aspettare al senato federale dell'autonomia anche la scrittura dei principi fondamentali che presiedono la legislazione regionale ma riteniamo rispetto a quel testo che fu definito violante di riportare questa competenza nella sola camera nazionale politica cioè nella camera politica quella della camera dei deputati riteniamo che sia utile rintrodurre l'interesse nazionale naturalmente come caso eccezionale questo è un contenuto già presente nella riforma della cosiddetta devolution nella quattordicissima legislatura riteniamo anche che vada un pochino asciugato proprio quelle materie grandi reti energia eccetera vadano riportate alla competenza dello Stato poi c'è il tema della costituzione economica qui faccio solo un cenno noi per la prima volta nelle nostre proposte portiamo i valori della concorrenza del merito professionale della responsabilità sociale dell'attività economica in costituzione non dico oltre perché il discorso è anche culturalmente affascinante in qualche modo nella relazione si fa nei termini in cui si può riguarda la nostra visione di sussidiarietà orizzontale la nostra visione di semplificazione amministrativa che è un po' diversa da quella che è tutto lecito quello che non è vietato così come ci è stato proposto dal testo Tremonti Berlusconi sugli articoli 41 97 118 e poi ci sono le nostre proposte che non sono proposte ultimative questo si avvassano dire sulla materia della riforma elettorale però sono ispirate al modello tedesco italo-tedesco mettiamola come vogliamo ce ne sono due ma chiaramente non abbiamo la pretesa della conclusività e della perfezione una appunto introduce con il collega Ria Buttiglione anch'io l'ho firmata introduce un modello tedesco il 50% secondo collegio il 50% proporzionale sbarramento al 5 insomma i temi che sappiamo l'altra agisce invece un po' più chirurgicamente sulla legge esistente per eliminare il premio di maggioranza l'abnorme premio di maggioranza che c'è e introdurre una preferenza peraltro due preferenze con il criterio di genere maschio femmina eccetera uomo-donna c'è anche nel libretto citato il lavoro che stiamo facendo e ho concluso sul referendum elettorale è un lavoro che lasciamo naturalmente al comitato della società civile che si è costituito per ma che vede l'unione di centro in primissima fila nel sostegno perché per quanto imprecise voglia essere lo strumento referendario però anche lì si abolisce il premio di maggioranza che è abnorme adesso qui non devo sprecare argomenti noti anche per brevità ma insomma è evidente che coalizioni o partiti del 38-39% anche 40% dei votanti non degli italiani finiscono per aggiudicarsi sostanzialmente il governo istituzioni garanzia di ogni tipo siamo nel pieno di una dittatura della minoranza ed è qui che c'è il cambio di stagione politica cioè un governo espressione onetta minoranza non è in grado di tagliare il traguardo Europa 2020 lo dico con la sintesi estrema che almeno insomma mi si vorrà riconoscere però le sfide sono molto impegnative e quindi queste riforme sono anche riforme adeguate alla nuova stagione politica non un esercizio di ideal tipus ma strumenti concreti per politiche nuove per la fase che attende l'Italia e ho terminato credo terminato pro tempo ringrazio ancora Pierluigi Mantini avete quindi potuto cogliere dalle sue parole il perché di questa iniziativa io sintetizzo due elementi che abbiamo trovato anche come formiche importanti il primo di legare il tema delle riforme all'agenda di Europa 2020 è una sollecitazione inedita nel nostro dibattito ma mi sembra molto affascinante il secondo aspetto a mio avviso molto positivo è che in questo libretto che non è il libretto rosso di Mao ci sono tutte proposte che sono avvolte a favorire il dialogo quindi non proposte ultimative quindi anche qui un'idea anche se mi è consentito di opposizione che come dire non cavalca a temi populistici si presenta con delle proposte al tavolo e lo fa come dire con la forza di chi non ha bisogno di porre ultimatum sul tavolo e quindi grazie ancora Pierluigi Mantini per averci offerto questa opportunità anche per la rivista io cedo con grandissimo piacere la parola a Luciano Violante che qui è di casa non solo come ex presidente della Camera non solo come autore della citata bozza Violante ma anche a me fa piacere sottolinearlo come presidente di Italia Decide che possiamo definire un think tank comunque è un luogo centralissimo nel dibattito anche istituzionale del nostro paese è un luogo davvero meritevole di grande attenzione al quale noi peraltro aderiamo con convinzione e soddisfazione se posso grazie presidente ma non ho capito se voglio parlare di Mantini o di Calderoli mi spiegate cosa devo fare diciamo così su Calderoli possiamo parlare di un racco temporale diciamo Casini parla da solo non ho bisogno di miei traduzioni no perché dico questo voglio parlare prima del libro di Mantini poi dire un ceno sulle cose dette da Calderoli ma innanzitutto è una cosa utile perché come ha detto si è detto adesso è un piano abbastanza completo di proposte di lavoro e non ultimative certamente ora qua è la questione io credo che c'è un problema di metodo che dobbiamo può affrontare riformare secondo il minimo indispensabile o secondo il massimo possibile io credo che bisogna lavorare secondo il minimo indispensabile nel senso che la riforma che fu fatta dal centro-destra 2001-2006 aveva invece il massimo possibile quella proposta dalla commissione bicamerale presuta da D'Alema lo stesso ma quel tipo di riforme sono riforme guardate che si reggono sullo scambio permanente tra parti politiche non su un asse di riforma ma su quello che conviene nella parte A la parte B la parte C e alla fine il sistema non funziona come non funzionava quello del 2001-2006 così non ha funzionato quello previsto dalla commissione bicamerale quindi ecco qui ho l'impressione che si stia di mezzo insomma forse una maggiore sintesi delle proposte una maggiore scelta di motivi prioritarie potrebbe aiutare però ebbene in un testo che intende aprire un teatro di discussione avesse seguito questa strada il secondo dato su quale sono perfettamente d'accordo sempre in carattere metodologico e si riforma secondo la Costituzione o contro la Costituzione questa riforma è secondo la Costituzione cioè in attuazione di principi fondamentali la riforma del centrodestra nella quattordicesima legislatura era contro la Costituzione nel senso che alterava profondamente gli equilibri costituzionali quindi detto questo qui a me sembra che questa sia un'eccellente base direi soltanto un punto su un punto che sarebbe utile che ha richiamato anche Calderoli il primo delle competenze era il senato ora qual è il punto nella bozza che nel testo che fu approvato dalla Commissione a fare i costituzionali nella scorsa legislatura si prevedeva che il senato fosse sostanzialmente eletto dai consigli regionali no? non approfondiamo il tema perché tanto diciamo qualunque cosa scriviamo il senato lo descriverà quindi poi se la vedono loro ma qual è il punto di fondo? e io credo che il senato vada eletto direttamente in base regionale con sistema proporzionale puro perché si deve rappresentare i territori e quella roba lì non deve dare indirizzo di governo non deve dare la fiducia quindi non c'è bisogno e questa non è una cosa secondaria perché permette un meccanismo compensativo tra Camera e Senato dove certamente bisogna orientare per la creazione di una maggioranza di governo cosa che non è necessario fare al senato ora circa le competenze del senato io ricordo che c'è una norma costituzionale che stabilisce l'integrazione della commissione per le regioni prevista dalla carta costituzionale sino in attesa della riforma costituzionale perché si pensa che il senato si pensava e si pensa che il senato debba assorbire le funzioni gran parte delle funzioni che oggi svolgono le commissioni di stato-regioni che sono commissioni come dire un po' come dire vivono nello scuro magari funzionano per quello però è certamente un tema da rivedere da fondo allora a questo punto se il senato diciamo il governo dei rapporti stato-regioni le commissioni di inchiesta perché essendo elette con sistema proporzionale è chiaro che è bene che lo svolgono le inchieste parlamentari ma per quanto riguarda le leggi io credo che il voto definitivo spetti comunque la camera che è soggetto dell'indirizzo politico fermo restando è il fatto che il senato può rivedere la legge proporre correzioni correzioni che il senato e la camera può superare soltanto con la maggioranza assoluta cioè un equilibrio di questo genere dà al senato un certo peso naturalmente ma resta il voto finale la camera che è l'indirizzo politico comunque potremmo discutere di questo il secondo dato è quello della riduzione del numero dei parlamentari ora qui guardate questo tema ha due facce una faccia antipolitica è una faccia invece di razionalizzazione ma se vogliamo affrontare la faccia della razionalizzazione il tema da porre è diverso a mio avviso che è questo oggi noi abbiamo il 50% della norme che riguarda la nostra vita chi viene da sedi extra nazionali il 50% di quella il resto del 50% il 70% del 50% che resta è regionale quindi l'attività legislativa reale del Parlamento è abbastanza ridotta aggiungete che quasi tutta la legislazione ormai è di provenienza governativa andiamo sempre di più guardate questa non è una degenerazione è una trasformazione determinata anche dalla globalizzazione dal fatto che devi competere con sistemi veloci e così via il futuro del Parlamento non è un futuro di un Parlamento di legislazione è un Parlamento di controllo il Parlamento di controllo è più difficile e occorre una classe parlamentare molto più qualificata per il controllo perché presentare la proposta di legge è sombra di tutti a fare il controllo leggersi i bilanci leggersi gli atti conoscere bene tutte le normative europee nazionali e regionali non è semplice allora in relazione a questa trasformazione del Parlamento che noi dobbiamo batterci per la rivoluzione dei numeri parlamentari cioè non per inseguire una come dire una voce antipolitica che secondo me non va a secondata bisogna razionalizzare la regione per la quale vanno rivolto i numeri parlamentari a mio avviso è questa un Parlamento di controllo è un Parlamento che ha un minore o un minore numero di parlamentari aggiungete a questo che è l'alto numero di parlamentari che peraltro è stata una grande garanzia di unità nazionale perché guardate dopo i 48 sono entrati in Parlamento quelli che avevano fatto la Resistenza e quelli che avevano fatto la Repubblica e Salò e sono stati costretti a parlarsi i cotarini del sud e gli operi del nord gli attifondisti del sud e gli preditori del nord e sono costretti a incontrarsi e a parlarsi e il Parlamento italiano è stato un grande luogo di costruzione dell'unità nazionale in tempi difficilissimi e io credo che questo va tenuto conto è stato questo ma nel frattempo sono venuti fuori la forza dei comuni la forza delle regioni la forza delle province e così via la rappresentanza insomma è a posto non ci possiamo lamentare e quindi anche da questo punto di vista credo che una riduzione dei parlamentari obbedisce anche a una forma di razionalizzazione però mettere in primo piano il tema della trasformazione delle funzioni parlamentari quanto poi al punto politico di cui si è discusso la proposta della Lega discutiamo con le opposizioni per quanto riguarda il Partito Democratico noi intendiamo discutere innanzitutto con le forze di opposizione costruire una posizione unitaria delle forze di opposizione e poi credo che si discuta con la maggioranza questo gioco come dire di dividersi tra di noi credo che sia profondamente sbagliato capisco che c'è un'intelligenza come dire dell'avversario ma non mi pare che vada a secondante come tipo di questione infine sulla questione di titolo quinto io devo dire una cosa la storia di titolo quinto è diversa da quella che ha raccontato il ministro Calderone perciò mi dispiace che è andato via perché la riforma di titolo quinto fu approvata innanzitutto dalla Camera nel testo della commissione bicamerale poi fu approvata da Forza Italia da N non dalla Lega che vota contro e da tutto il centro-sinistra e credo anche l'Udc l'avesse votata dopo cosa è accaduto è accaduto che Berlusconi ha ritirato il sostegno della riforma il processo si è chiuso elezioni del 2000 elezioni regionali vince il centro-destra presidente della conferenza dei presidenti regioni e presidente Ghigo di Forza Italia il quale chiede che il Parlamento approvi definitivamente la riforma federale tutti i presidenti in maggioranza del centro-destra chiedono questo ci si riunisce allora faccio il presidente della Camera si riunisce il capigruppo si chiede cosa vogliono fare si dice no il centro-destra dice no lo faremo noi quando vinceremo le prossime elezioni gli altri insistono su questo terreno noi riteniamo che fosse giusto assicurare questo percorso voglio dire che è diverso questo percorso da quello della riforma della legislatura successiva non ci fu nessuno che premeva tanti fatti che mentre la riforma di Torquinto è stata confermata dal referendum la riforma del centro-destra è stata bocciata dal referendum ecco solo per ricordare che l'itinerare è completamente diverso l'ultima questione che dobbiamo porre ci sono i tempi per questa riforma ecco io non lo so io credo di non francamente credo che però sia molto utile che tutte le forze d'opposizione cominciano a discutere dei punti comuni su quali occorre rivedere l'ordinamento costituzionale sempre secondo il principio del minimo indispensabile con questo io insisterei ma che si cominci tra di noi sulla base di opere preziose con quelle di cui discutiamo stasera a mettere insieme i tasselli di un ordinamento costituzionale diverso dall'attuale secondo i principi della costituzione modernizzando gli stessi io credo che sia un compito che deve impegnare tutti quanti noi e comunque ripeto non siamo disponibili ad un discorso come dire a due con nessun esponente della maggioranza se non dopo aver fatto aver avuto una posizione comune tra le forze dell'opposizione grazie Presidente Violante anche per aver espresso con chiarezza e trasparenza un'opinione molto precisa su quest'ultimo punto e cioè della collaborazione fra le opposizioni prima ancora che fra opposizioni e maggioranza io a questo punto cedo volentieri la parola per Ferdinando Casini e non me ne vorrà se non ho bisogno di fare nessuna presentazione particolare per lui la prudenza istituzionale a cui si richiama Mantini mi sembra una virtù mi sembra una virtù perché è bene far riferimento a prudenza istituzionale quando si tocca la Costituzione l'assetto dello Stato segnalo il rischio che di questi tempi la prudenza istituzionale possa degenerare in paralisi istituzionale perché questo certamente è ciò che noi cerchiamo di evitare tutti i giorni in Parlamento io penso una cosa primo che è necessario che maggioranza e opposizione come è stato fatto oggi si confrontino nel merito dei problemi partendo da un'agenda di cose ineludibili siamo l'unico paese del mondo in cui c'è bicameralismo perfetto non vi è in nessun altro paese del mondo allora poiché siamo in periodo di federalismo penso che il Senato delle Regioni non possa che essere il punto di riferimento principale della nuova struttura federale dello Stato italiano dobbiamo dimezzare il numero dei parlamentari per dare un segnale concreto all'opinione pubblica io credo nel Parlamento credo nella centralità del Parlamento come nel nostro sistema costituzionale si scrive ma se vogliamo difendere la centralità del Parlamento dobbiamo saper adeguare il Parlamento lo dico qui in presenza di Violante facendo io riferimento sempre come ho fatto la scorsa settimana in una lezione alla Sapienza la riforma dei regolamenti parlamentari che secondo me è stato un punto fondamentale in termini di capacità di riforma che il nostro Parlamento ha segnato sotto la presidenza Violante dopo ci sono stati dei tentativi ma non hanno prodotto a niente tutti i presidenti della Camera pro tempore hanno sollecitato la necessità io mi ricordo ad esempio anche un tentativo nella giunta del regolamento di stabilire le fattispecie per l'adozione del voto segreto ma non siamo mai riusciti a toccare queste riforme dei regolamenti parlamentari né a fare altra strada penso che oggi sia necessario dare un segnale all'opinione pubblica difendiamo la centralità del Parlamento sapendo innovare ciò che non funziona dobbiamo arrivare all'adozione di un provvedimento drastico che dia un segnale all'opinione pubblica e che nello stesso tempo difenda il vestito istituzionale che abbiamo allora riforma del bicameralismo senato delle autonomie sfiducia costruttiva e poi il tema della legge elettorale ora leggo testualmente nell'agenzia di stampa che mi è appena pervenuta adesso scusatemi perché la tecnologia è tiranna come ciascuno di voi sa Bossi sulla riforma della legge elettorale si può fare un'intesa con l'opposizione Bossi ha sorpresa al dialogo con le modifiche della legge elettorale una cosa su cui si può ragionare si può fare l'accordo bene le parole di Bossi e quello che ha detto Calderoli mi confortano su un tema la legge elettorale deve uscire dall'agenda della maggioranza o dell'opposizione l'agenda la dobbiamo concordare insieme e trovare il modo di fare una legge elettorale che anzitutto restituisca ai cittadini lo scettro devono essere gli italiani a decidere i propri parlamentari non possono essere cinque persone che scelgono mille parlamentari che questa sia un'esigenza all'ordine del giorno è dimostrato anche dall'iniziativa dell'onorevole professor Passigli che è qui presente dei referendari loro cercano sostanzialmente in presenza di un'assenza della politica legislativa di supplire con un'iniziativa referendaria è certo che se non ci saranno altre strade l'iniziativa referendaria rimarrà l'unica opzione ma io credo che noi abbiamo il tempo se c'è la volontà e la presentazione o la discussione forse è stata anche presentata la proposta del PD la proposta del PD è stata presentata formalmente no no d'accordo però è stata cioè la discussione che ha aperto il partito democratico sulla legge elettorale le parole della Lega le esigenze del movimento referendario poste sul tavolo e oggi questa iniziativa di Mantini ci dicono che la legge elettorale deve essere al primo punto dell'ordine del giorno la legge elettorale è matura possiamo restituire la libertà di scelta degli eletti ai cittadini italiani possiamo evitare certe storture noi siamo l'unica legge elettorale che prevede uno sbarramento e un premio di maggioranza io credo che sia importante continuare a prevedere lo sbarramento perché non possiamo tornare all'Italia della prima repubblica con 50 partiti presenti in Parlamento ma mi chiedo l'avere inserito lo sbarramento ha di per sé garantito che in Parlamento ci siano meno partiti no perché se noi oggi prendiamo il numero dei gruppi parlamentari o dei micropartiti presenti in questo Parlamento io penso che già nella maggioranza ci saranno almeno una decina di partiti o pseudopartiti vuol dire che le cose non funzionano ad esempio un altro punto fondamentale è quello di prevedere che si possono costituire nelle Camere Camere dei Deputati e Senato solo gruppi parlamentari emersi dal risponso elettorale chi non si è presentato come partito all'elezione non può poi fare dei partiti fittizi magari generati per trasformismo nella sede del Parlamento perché questo dà un'immagine pessima alla politica consente anche diciamo così la moltiplicazione delle spese delle strutture parlamentari che è una cosa ridicola per cui io caro Mantini ti ringrazio di questa iniziativa penso che ci siano le condizioni anche in vista dell'agenda Europa 2020 di fare qualcosa di concreto voi ponete anche il tema della sussidiarietà della semplificazione amministrativa ad esempio della disciplina dei referendum non facciamoci abbagliare dal fatto che ci sia stata una maggioranza in questo referendum stiamo attenti secondo me all'ordine del giorno ci deve essere l'aumento del quorum per l'aumento delle firme per poter promuovere il referendum e l'abbassamento del quorum bisogna stabilire delle griglie diverse se vogliamo anche rendere accessibile l'uso di questo strumento che eccezionalmente in questo caso anche per questioni politiche nessuno se lo può diciamo dimenticare ha raggiunto ampiamente il quorum c'è da lavorare credo che l'esperienza del Presidente Violante la disponibilità verso il Parlamento di Calderoli che devo dire almeno da questo punto di vista non è mai venuta meno le parole di Bossi l'iniziativa dell'Udc degli altri partiti del Terzo Polo può rendere questa questione molto stringente e dobbiamo anch'io ho qualche scetticismo come Luciano sulla possibilità poi che in questa scorcia di legislatura si possa materializzare un risultato ma noi cristiani dobbiamo coltivare la speranza per cui speriamo e operiamo fattivamente perché la speranza si possa concretizzare in qualcosa perché se fosse il pessimismo a dominare i nostri sentimenti cara Paola saremo tutti tristi e allora dobbiamo grazie grazie il Presidente Pierluigi se vuoi concludere io non devo concludere voglio solo ringraziare il Presidente Violante il Presidente Casini il Ministro Calderoli abbiamo già ringraziato voi tutti e dire che il commento fermo in un'altra sedia comunque gli spunti molto precisi sul ruolo del Parlamento su altri tempi il Presidente Violante saranno tutti ben meditati approfonditi ma colgo un solo dato dalle sue parole sì in effetti questo è un lavoro che vale per l'oggi per il dialogo con le forze politiche ci sono e vale anche per il domani cioè grazie